E' il peggior caso che abbia visto. Resti di un corpo gettati per tutta la provincia. Venite, ho trovato qualcosa! Documenti e vestiti insanguinati! Risulta implicata in tre omicidi. Ogni uomo che si lega a lei muore. Credi che nella vita si possa anche vincere. Sto solo cercando qualcosa da fare. Volevo sfuggirgli, ma non potevo. Non voglio le tue spiegazioni! Andrà tutto bene. Cosa vedi? Carbone nero, ghiaccio sottile.